Per troppe donne la casa diventa una prigione. I mobili si trasformano in armi e le mani in coltelli. Le fondamenta di ogni casa e famiglia devono poggiare sull'amore e sul rispetto. La violenza sulle donne è la crepa nelle pareti che non vogliamo più vedere. Toscano grida, basta violenza sulle donne.